Sassari Save the Children inaugura il punto luce insieme a WISC Sassari e Comune di Sassari. Il centro sarà aperto ai minori dai 6-16 anni e garantire ai bambini e agli adolescenti spazi a loro misura dove trovare opportunità di crescita e sviluppo. Sarà attivo all'interno dell'edificio ex sede di una scuola dell'infanzia assegnata al settore politiche, educativi e giovanili del Comune di Sassari che si trova in via Martin Luther King nel quartiere di Latte Dolce caratterizzato da una forte presenza di disagio sociale. Grazie a tutti!